Buongiorno e benvenuti alla sedia stampa di oggi lunedì 4 giugno, secondo giorno del governo del cambiamento. Vediamo che cosa è successo sui giornali e quali sono le cose fondamentali di giornata. Riguardano oggi la politica della migrazione, diciamo così i migranti. Sui migranti non siamo campo profughi, ha detto il neoministro degli interni. Bisognerà passare prima o poi dalle dichiarazioni ai fatti, questo è fuori di dubbio, anche perché se c'è una cosa evidente è che secondo i dati del ministero degli interni, cioè i dati dello stesso ministero che oggi guida Salvini, nel 2018 grazie a Minniti e all'accordo con la Libia, quindi al passato ministro degli interni, sono drasticamente diminuiti gli sbarchi. Questo dimostra due cose, che Minniti ha fatto qualcosa e che evidentemente il ministro precedente aveva fatto molto poco al Fano e quindi questa retorica dell'accogliamo tutti era stata già in parte smentita. Però il ministro degli interni va duro, attacco alla Tunisia che effettivamente ci fornisce su 13 mila sbarchi. Nei primi sei mesi il 20% vengono da Tunisia e quello che dice molto chiaramente Salvini, come ha sempre detto in trasmissione, devo dire, lo ha detto anche ieri in maniera chiarissima, non mi sembra che in Tunisia ci sia una guerra, via i tunisini che arrivano in Italia soprattutto perché spesso sono galeotti. La Merkel incredibilmente, l'odiata Merkel dal Movimento 5 Stelle, da Salvini soprattutto, dice l'Italia è lasciata, è stata lasciata sola. Va bene? L'Italia, ciao Gabriele, Aug, Vittorio, tanti amici che si stanno già collegando. Vittorio tra l'altro è il suo compleanno. La Merkel dice Italia è lasciata sola e quindi dando un po' un senso, diciamo, di un'Europa che si riposizione, che capisce il, diciamo, il dramma italiano dell'immigrazione che oggi è meno dramma grazie al passato. Ciao Francesca, è al passato, diciamo, un ministro degli interni a cui bisogna dare atto di aver fatto un cambio di partita. Molto divertente, anche se minore, è la questione di Soros. Soros dice che il governo italiano è legato a Mosca e i legami sarebbero tra il Movimento 5 Stelle, ma soprattutto la Lega e Putin. È una cosa vecchia, ma è un mestare un po' nel torbido. No, l'Italia legata alla Russia, non fosse altro che per esempio Salvini vuole che vengano cancellate le incredibili sanzioni della Russia, cosa di cui ha perfettamente ragione Salvini. Il giornale che prende più sul serio questa dichiarazione di Soros, anzi ne fa un titolo di prima pagina molto più di quanto sia quello della Merkel, cioè Merkel dice l'Italia è lasciata sola e non ha ruolo, mentre su Repubblica Soros che dice che noi siamo legati alla Russia col nuovo governo ha una grandissima eco. Poi dopo vado a vedere una tabellina di pagina, non mi ricordo quale, di Repubblica su chi è Soros secondo Repubblica? È un imprenditore e un attivista e filantropo ungherese e americano, tutte cose vere, è un imprenditore, è un filantropo, è un attivista, ma Repubblica non è il giornale che ci ha fatto due palle così sulla finanza speculativa, non è il giornale che ci ha parlato di neoliberismo, non è il giornale che ci ha parlato di miliardi che girano per il mondo e che determinano i governi di tutto il mondo, cioè io dico Repubblica non è quella che con Giannini e tanti altri ce l'ha contro questa finanza globalizzata, ecco bene Soros è quello che ha fatto uscire l'ira esterlina dal serpente monetario, cioè quello che speculò miliardi di euro legittimamente dal mio punto di vista, ma dal punto di vista di Repubblica no, perché quelli sono gli speculatori, quelli che fanno i soldi con i soldi, allora mi chiedo ma perché Soros che tra l'altro spesso viene intervistato da Repubblica diventa questo grande autorevole commentatore quando gli fa comodo da tanto tempo proprio a Repubblica, mi chiedo non è quella la finanza speculativa su cui loro ci fanno due palle così, mi diverte moltissimo poi il fatto che nel caso di Soros lo si definisca un imprenditore, lo si definisca un attivista, lo si definisca un filantropo, ma non un finanziere che è la sua attività principale, la sua impresa principale si chiamano Quantum Fund e tanti altri fondi comuni di investimento che per tutti gli altri sarebbero stati definiti attività da finanziere per Soros da imprenditore, io sono uno di quelli che pensa che un finanziere è un imprenditore, voi Repubblica in genere pensate che i finanzieri siano merda, bene tranne che nel caso di Soros, soprattutto se Soros attacca Salvini, fantastico, per Mauro Ezio Mauro la destra finalmente si è realizzata in questo governo e i grillini sarebbero stati mangiati e divorati da questa destra, insomma Mauro non ha forse letto ieri bene, o anzi l'ha letto se ne frega Ricolfi, in cui Ricolfi ieri ci raccontava che tutto quello che è destra vuol dire brutto, vuol dire fascismo, in realtà questo non è un governo né di destra né di sinistra, ma che comunque la parola destra viene usata come una clava contro quelli che non ti piacciono, così fa Mauro oggi. Salvini quella era Saviano, perché Saviano in un video andato in onda su Repubblica sabato diceva, lo accusava di lasciar morire e di lasciar annegare le persone, in realtà lui non lascia annegare le persone, dice semplicemente che in Tunisia non c'è una guerra e che probabilmente i migranti in Tunisia non si lascia capire per quale motivo debbano venire in Italia, soprattutto se sono galeotti. La Raggi non ci sta, la Raggi che è una incapace di gestire una città, però invece vuole essere capace di gestire i flussi migratori e chiede alle famiglie di prendere delle persone e accogliere in famiglia questi migranti. Ringraziamo la Raggi, è straordinario il retratto comunque che fa di Salvini e di Fazio, scusatemi, della storia tra Salvini e Saviano fatto dal giornale e da Fazio, che capisco che il giornale non sia molto caldo nei confronti di questo governo, ma non può certamente essere caldo nei confronti di Saviano e soprattutto su questa questione dell'immigrazione certo non può essere. È ragione, qualcuno ha detto se sei di sinistra allora sei un filantropo, se sei di destra se sei un finanziere, è verissimo. Bisignani oggi è molto divertente sul tempo, si cucina Carlo Calenda, il Twitterolo folle, quello che non ha più un governo, non ha più un partito, non voleva fare il segretario del PD, il segretario della destra, il segretario, il presidente del Consiglio eccetera, oggi Bisignani lo prende un po' in giro sul tempo, il Calenda che piace alla gente che piace. Devo dire che piace a tutti, anche a me, però si rifiuta sempre questo Calenda di venire alla trasmissione quando io lo ostito, che è legittimo, ma la cosa più divertente è che l'ho invitato a Matrix, un piccolo pettegolezzo che mi permetterete di fare e sapete che cosa mi ha detto? Non sono i tempi e i modi giusti per parlare in questo momento. Era il giorno prima dall'annunziata, il giorno dopo a otto e mezzo, il giorno prima da... non vuole venire da noi, è chiaro che non vuole venire da noi perché Calenda non vuole venire in una trasmissione che magari qualche domanda, diciamo, sulla sua consistenza democratica la farebbe, oppure semplicemente qualche domanda, non stare lì tutti quanti dare il mito di Calenda. Oggi quando ho letto Bisignani devo dire che mi sono molto messo a ridere perché ho detto un uomo molto impegnato, per questo forse da noi non può venire, piccolo sassolino che mi sono tolto dalle scarpe, quindi la prossima volta magari non vi inventate che non ci sono i tempi giusti per venire a Matrix se la sera prima vi vedo da un'altra parte, no? Basta, basta dire questo. Chiusa questa prima questione personale, noi ci vediamo domani sera con Matrix, mi raccomando, senza Calenda, non vi preoccupate. Saremo Calenda liberi domani sera a Matrix. Si parla sempre di governo e si parla anche di sottogoverno, insomma anche il sottogoverno è importante, mi diverte perché questi devono fare la rivoluzione del cambiamento, ma in realtà oggi stanno facendo la rivoluzione dei sottosegretari. Cinque viceministri e venti sottosegretari al Movimento 5 Stelle, tre viceministri e quindici sottosegretari alla Lega. Va bene? Questo è il sottogoverno, bisognava aprire la camera come una scatola di ritorno, poi alla fine i sottosegretari contano e come. Insomma, la politica è fatta anche di queste cose che tanto non vi piacciono. La ministra, credo, è stata credita mentre giàva senza scorta. Ciao grande Nicola, grazie per quello che diceva. Va bene, insomma, buona giornata. Tutti a Matrix senza Calenda, Pierpaolo, fregate, è meglio se Calenda non viene, dice solo di azia. No, secondo me qualche cosa di Sacro Santo lo dice qualche volta stasera, di fatti François ci ricorda che siamo in radio. Un'ultima questione fondamentale è le pensioni. Io sono molto preoccupato per le pensioni, perché, vedete, è molto facile dire che non funziona la Fornero ed è molto facile volerla riformare. Poi bisogna vedere come riformarono uno scalone maroni, pochi se lo ricordano, il governo di sinistra che seguì il governo di centrodestra. Ogni governo vuole riformare le pensioni, la riforma delle pensioni precedenti e questo mette molto in sicurezza intanto nel sistema economico, perché non si può riformare sempre, non ti fidi mai della riforma perché pensi che verrà sempre cancellata o in peggio o in meglio. Allora, cosa succede? Intanto una piccola notiziola che ci tira fuori l'Inps di oggi, beh, ci sono 406 mila persone, 406 mila, mezzo milioni di persone che prendono la pensione dal 1980, da più di 38 anni. Allora, potrò essere un po' incazzato, eh? Come diceva il Marchese del Grillo? O con Aronne Piperno? Potrò essere un po' incazzato se ci sono 406 mila persone, alcune ovviamente sono morte, quindi erano di più, che sono 38 anni che prendono sulle mie spalle, che io pago, pago le pensioni. Questi non sono vitalizi d'oro, amici miei Salvini, Di Maio e compagnia cantante, questi sono baby pensionati che magari prendono di 700-800 euro sulle nostre spalle da 38 anni. Saranno pochi soldi, ma tutti i mesi da 38 cazzo di anni. Niente, noi vogliamo fare la riforma delle pensioni. Quanto costerà la riforma delle pensioni? 5 miliardi, almeno questo è un dato positivo. Voi direte, come è un dato positivo? Sì, perché Salvini e compagni hanno stabilito che più di 5 miliardi non potrà costare. Oggi il più importante, secondo me, economista che si occupa di pensioni, che è Alberto Prambilla, vicino alla Lega, e mi sembra che si candidava anche a fare il sottosegretario, ci ha spiegato che bisognerà fare una riforma delle pensioni e che appunto non si spenderà più di 5 miliardi e la quota 100, cioè 61 anni e 39, ce la spiega molto bene sul Corriere della Sera. Ultima cosa finanziaria, ve la segnalo perché il resto pur sempre un giornalista finanziario, se dovesse andare al porto si tratta di una cosa enorme ed è la fusione tra la banca italiana Unicredit, la seconda banca dopo intesa San Paolo, e la Sogen, che è una banca un po' traballante francese, non traballante, insomma che non è andata particolarmente bene negli ultimi anni, non è patrimonializzata come Unicredit che ha fatto un aumento di capitale da 13 miliardi, è la fusione tra due, diciamo numero due, e cosa hanno in comune? L'amministratore delegato di Unicredit che si chiama Mustier è stato anche a lungo capo della sala operativa finanziaria di Sogen, cioè arrivano tutti e due, cioè ci sono molte, 65 più 38 uguali a 103 anni, arrivano tutte sia Unicredit e Sogen, sono due banche che quindi potrebbero avere nel management la loro ragione di fusione, Societè Generale. Correggono, leggo più il libro e il giornale, sono la verità, gli altri ci sono purtroppo, Matrix, Solè, la grande Societè Generale, Françoise, ma perché dobbiamo dare le pensioni i genitori degli extracomunitari, non lo so se le dobbiamo dare, beni pensioni è uno scandalo tenuto conto che la parte sono professore and company, sono professoressi, professore, e vabbè insomma andiamo avanti con un po' di informazioni, un po' di vostri commenti. vi saluto, vi do capoverde forever, Marco non manca mai, ma vai al mare che oggi qua piove a Milano, vabbè vado a Roma tra poco, quindi andremo avori. I problemi di vita e di miseria, chi ne parla e fa davvero qualcosa dice Jokes Bucks, un piacere ascoltarti Elvira. Con questo complimento io vi saluto e vi do appuntamento questa sera con 105 Matrix e pezzo se vi diverte su nicolaporro.it, tutti i commenti che volete dei collaboratori del sito e miei sulla particolare situazione politica con cui ci vediamo, nicolaporro.it, ciao!